Buonasera, chiedo di presentarsi con il nome e cognome e che muovo in questa giornata di Le Voci di Cartunia 2019 edizione quest'anno a Milano e con al centro il tema dell'accessibilità a 360 gradi. Buongiorno, sono Fabrizia Farini, direttrice della Cinica Suoli Interpreti e Traduttori e in questa giornata ho collaborato con Tiziana Guairino all'organizzazione e puntando soprattutto l'attenzione sull'accessibilità. Noi come Civica da anni organizziamo dei corsi post diploma o anche all'interno del nostro corso di laurea registrale abbiamo una particolare attenzione all'accessibilità con la sottotitolazione per non inventi e la descrizione e devo dire di essere molto soddisfatta della giornata di oggi, si sono toccati vari punti, sono stati discussi alcune possibilità di collaborazione per poter avere un ruolo come Civica nella corretta formazione di audiodescrittori o sottotitolatori. Quindi potremmo dare un auspicio, a partire da questa giornata potrebbe essere quello che la formazione porti i professionisti sempre più di qualità in questo settore. Certo, è quello che noi vogliamo collaborare a fare con RAI e con altri fornitori di questi servizi e siamo pronti ad accogliere richieste particolari che interessano la formazione per poterle applicare. Grazie a voi.